Com'è andata stamattina? Eh, bene, sono stato un po' in soggiorno, poi anche in balcone, pensa. Voi? Eh, abbiamo fatto un po' di smart working. Eh, beh, per ora si può fare solo quello. Già, si può fare solo quello. Ecco ragazzi, sono passate tre settimane di quarantena, se uno non avesse un po' di compagnia, eh? Imbazzirebbe. Certo, uno imbazzirebbe. Però uno ha l'opportunità di stare un po' con se stesso e capire la ferita interiore che porta alla nascita del proprio alter ego. Ah, perché tu ci vedi proprio. Dico, per te, noi esistiamo fisicamente. Ragazzi, ma volete? Ah, perché tu pensi che noi possiamo pure mangiare. Eh, come se avessimo Ah, come se avessimo. Ah, come se avessimo. Ah, come se avessimo. Ah, no